Salve, sono Emilio Gaggini, titolare della Scinomania, distributrice per l'Italia del marchio Doctrace. Commercializziamo e proponiamo anche il satellitare più addestramento, quindi il collare A, oltre a essere un satellitare, è anche un addestramento, in questo caso è anche i biper, questo è il modello X30B, B sta per biper ovviamente. Il modello X30B e anche il modello X30 può essere trasformato in T, X30TB o X30T, T sta per training, addestramento, modulo di addestramento. Come si fa? Ci si inserisce appunto un modulo di addestramento, modulo di addestramento è questo qui, viene fornito con le quattro viti, il jack da mettere nella scheda che farò vedere come si fa e poi i due moncherini per metterci le sondine stimolatrici, ce ne sono due coppie, una coppia più corta e una coppia di sondine più lunghe. Come si fa? In questo caso è appunto, dicevo, è un X30B, quindi col biper, però anche nel collare X30 va bene. È presente questo coperchietto che io ho già svitato prima, sono quattro viti, si svita. Qui appare la batteria, questa è la batteria, che è agganciata a questo jack. Il modulo di addestramento si aggancia nell'altro. Bisogna stare attenti un po' perché c'è un verso. In questo caso è così, quindi si aggancia semplicemente. Poi si rimette la batteria, si appoggia così, si mette il modulo e si avvita con le quattro viti. Ora ho già programmato questo modulo con questo palmare. Ovviamente il collare si accende e si spende accostando il pallino rosso al pallino rosso. Il collare è acceso se la luce lampeggia. È spento se la luce non lampeggia. Ora sta lampeggiando di arancione perché la batteria è scarica, si sta scaricando. E quando inizia a lampeggiare di rosso è totalmente scarica, dovrebbe lampeggiare di verde per assicurarsi che la batteria sia totalmente carica. Però va bene anche così, è una carica media quella dell'arancione. Per attivare il modulo, allora, e questo è un B, quindi con questo pulsante si fa suonare con questo suonettino, con questo qui. Con questi due pulsanti si dà, è questo suono più alto. Con questi due pulsanti si dà invece la scossa. Quindi questi due contemporaneamente. Si preme e si dà la scossa. Ora si capisce che dà la scossa perché la luce qui lampeggia di rosso. Vedete? Fa rosso quando preme i pulsanti. Di nuovo li premo e fa rosso. Come si regola l'intensità di stimolazione? Che è l'unica cosa che bisogna sapere per il modulo in pratica. Si preme menu e si tiene premuto. Si va su training, è quello che ci interessa. Quindi di nuovo menu e si tiene premuto. C1 è il cane che ci interessa e ne abbiamo solo uno? Sì. O no? No, in questo caso ne avevamo due. Quindi mettiamo su C2. Questo è il cane C2. Ne ha programmato un altro su questo palmare. Ci interessa il C2? Sì. Quindi di nuovo menu e si tiene premuto. Imp e l'impulso. L'impulso di stimolazione. Gestiamo questo. Di nuovo menu e si tiene premuto. Ora livello 5. Ci sono 15 livelli di stimolazione. Si raccomanda di tenere un livello piuttosto alto perché è bene subito a dare una stimolazione decisa al cane perché capisca subito. Come si fa per aumentare e diminuire? Con le frecce laterali. Si aumenta. Io lo aumento fino a 15. E poi si conferma sempre premendo questo pulsante. E si torna indietro e si conferma. Per ulteriori chiarimenti, necessità, dubbi, non è necessario contattarci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti